La proposta di legge giapponese sulla fertilità discrimina le lesbiche e le donne single. Un progetto di legge che potrebbe essere presentato nel Parlamento giapponese questo mese vieterebbe ai medici di fornire cure per la fertilità a qualsiasi donna che non sia sposata con un uomo. Inseminazione e fecondazione in vitro FIV per donne single e coppie lesbiche.Se approvata, la legge legalizzerebbe la discriminazione nei confronti delle donne single e lesbiche che desiderano avere un figlio. Le coppie dello stesso sesso non possono sposarsi in Giappone.A novembre, un tribunale di Tokyo ha confermato il divieto del paese di matrimonio tra persone dello stesso sesso, citando la definizione costituzionale di matrimonio come matrimonio tra, e entrambi i sessi. Divieto costituzionale per lo stesso motivo.Queste sentenze contrastano con una sentenza del marzo 2021 in cui un tribunale di Sapporo ha dichiarato incostituzionale il divieto, definendolo un «trattamento discriminatorio senza una base razionale». Delle tutele legali per le famiglie dello stesso sesso ha violato i loro diritti umani e la Costituzione giapponese. Fino a ora, l'accesso ai servizi per la fertilità non è stato esplicitamente vietato alle donne «queer o single». Le attiviste per i diritti umani Mamiko Moda e Satoko Nagamura hanno avuto il loro figlio usando sperma donato.In un'intervista con Human Rights Watch, Nagamura ha dichiarato «Se questa legge fosse esistita due anni fa, non avremmo avuto il nostro bambino. Vogliamo che tutte le donne possano accedere al loro diritto all'assistenza sanitaria. Vietare alcune di noi non impedirà alle persone di desiderare un bambino, ma solo spingilo più sottoterra e rendi il processo di acquisizione dello sperma molto più pericoloso. Questo non è solo un problema LGBT. È un problema di salute e sicurezza delle donne. I legislatori giapponesi dovrebbero emendare il disegno di legge per garantire parità di accesso al trattamento della fertilità per tutte le donne, indipendentemente dal loro stato civile, orientamento sessuale, identità di genere o espressione di genere. Bissessuali e queer, LBQ+, i dà l'accesso ai trattamenti riproduttivi e fornire informazioni pubbliche sui percorsi verso la genitoriali per le donne queer e single, comprese informazioni sull'adozione e sui servizi riproduttivi. Riconosce la paternità legale dei genitori lesbiche non gestazionali.